Ci troviamo al BIA Garden Store di Parma. A Parma nel mese di marzo si è svolto il convegno verde ambiente, organizzato da Promo Giardinaggio. Per parlare di un problema sempre più comune, ossia l'inquinamento indoor, ovvero l'inquinamento che troviamo all'interno delle nostre abitazioni e che è dovuto a delle sostanze contenute nelle vernici per dei muri oppure dei mobili che evaporano. Oppure semplicemente al classico fumo di sigaretta. L'Università di Parma sta studiando per capire quali piante ci possono aiutare per diminuire l'inquinamento all'interno delle nostre abitazioni. E oggi siamo qui in compagnia di Marianna che ci spiegherà quali piante possono aiutarci in questa nuova missione di ripulire la nostra casa dall'inquinamento e ci spiegherà anche la loro funzione. Allora, possiamo trovare vari tipi di piante, tipo lo spatifilium che raccoglie le sostanze nocive dei detersivi, il croton che invece raccoglie le energie elettromagnetiche, oppure la sanseveria o come la calanqua che è una pianta fiorita che tra l'altro fa anche arredamento in casa. E poi troviamo il potus che raccoglie a sé dall'aria il fumo di sigarette. Perfetto, benissimo. Quindi queste sono le piante che ci possono aiutare a diminuire l'inquinamento in casa nostra, chiaramente ricordandoci che dobbiamo anche arreggiare sempre le nostre stanze.